Siamo in un'armatura evoluta, sempre in questa modalità che ormai mi porto un antinome il popolo. Quindi finchè non finiamo con questa e basta. Dicevo comunque finchè non finiamo con questa. Siamo in un'armatura evoluta così. Ma che figata. Io non posso portare altro. Va bene così. Vediamoci una mossa. Atterriamo qui. Va bene. Amo questa parte. Sì, l'armatura evolutissima. Esploriamo da questa parte. Carica. Ho abbattuto quello lì. Che male. Che male. Stanno sparando. Muori uno. Aiuto. Tu curarmi. Mi sto curando. Mi sto curando. Tu forza. Mi sto curando. Oddio Dio che brutto inizio. Cioè è bello ma... Aiuto. amicare. Aiuto. Sì. Nitti colpi. Collocamento barriere. Il circuito è pronto. Non siamo tutti. Guarda. Ricarico. Da dietro Basta Eh ma han distrutto Ho preso il banner del nostro compagno di squadra Ricarico Ehi Una manina Ah facciata Vabbè bella da questa partita Che precisioni totale Ok 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 Preghiamo Ok Ok C'è una linea sottile tra vita e morte. Mi troverete lì. Sceglierò la nostra posizione per la battaglia. Qualcuno vuole farmi fuori? Venite a prendermi, sembra divertente. Siamo iniziati, va bene. La battaglia giace al di sotto. Prenderò un cuore. Tutti in questo palazzo sono venuti. E' questo? Non ce l'ho capito. Un po' di più dicendo. Vabbè, dai. Ok, ultimissimo tentativo. Cambiamo un po'. E' giusta questa volta. Andiamo. Ci sono uno schianti. Davvero, questi capelli. Questo viso. Che te lo dico a fare? Pronto a partire? Ok. Questo è il tuo campione. Ancora. Madonna. Vabbè. Questo video verrà un po' lungo. Questo ci sono fatti un po' di tentativi. Però ci stanno, dai. A volte ho avuto un po' di tentativi. Ho capito. Un po' di tentativi. Un po' di tentativi. Siamo fortunati Siamo già dentro il prossimo anetto Qualcuno ha iniziato la festa Sto ricaricando gli scuri Utilissime Sto grafica di colpi Stalma è bellina Però spara troppo veloce Finiscono subito i venti colpi Vedo che mi entrano i colpi La manina Non cambia le armi Quarant'anni ci ho messo che ho fatto l'arma Vabbè sono scarsi Bene sono scarsi però ci sono morti Vabbè Tranne il primo tentativo ho fatto bastanti chiare Vabbè E Grazie a tutti.